buongiorno intanto buona pasqua a tutti quanti voi che avete ancora la voglia di seguire la zuppa di porro anche questa domenica di pasqua domenica 16 aprile allora domani non ci saranno i giornali quindi domani faremo una cosa diversa vediamo se la facciamo però insomma ho già qualche ideuzza su come intrattenervi anche domani che è il lunedì di pasqua sarete tutti quanti in giro a fare la vostra pasquetta noi stiamo preparando siamo ancora sono ancora a parigi ma domani si riprepara matrix di martedì sera cosa è successo oggi beh insomma il regalo di pasqua oggi ce l'ha fatto il ministro dell'economia paduan che è stato intervistato dal messaggero questa mattina e che cosa per metterci di buon umore a pasqua per fare le pulizie di pasqua la sostanza di un'intervista che è di due pagine e soltanto una e cioè che quelle famose clausole di salvaguardia cioè sostanzialmente tasse rimandate a domani che sono rappresentano l'aumento dell'iva quella del 22 al 24 per cento quella del 10 al 12 per cento oppure di più insomma quegli aumenti dell'iva che a settembre avremmo dovuto disinnescare trovando 15 16 miliardi per il disinnescare secondo quello che dice paduan oggi non è che fanno così male dice sostanzialmente paduan meglio ridurre il costo del lavoro che mantenere l'iva inalterata cioè un po più d'iva va bene e con quei soldi ci riduciamo il costo del lavoro e insomma è il gioco come si dice delle tre carte la sostanza volete sapere qual è che aumenteremo l'iva a settembre ottobre se continueremo ad avere paduan e se renzi e i suoi diciamo politici d'anticausa di paduan non si metteranno di traverso su questa follia che aumentare l'iva ricordatevi l'iva è su tutto e sulla benzina che comprate sulle sigarette che prendete sull'alcol che bevete voglio andare sui vizi no sulle cose che non piacciono non c'è sulla droga perché la droga oggi è liberalizzata ma non legalizzata quindi lì non c'è così come non c'è l'iva sulla prostituzione ma c'è l'iva sul pane c'è l'iva sui ristoranti c'è l'iva sugli alberghi c'è l'iva sui telefonini c'è l'iva sulle macchine c'è l'iva su tutto allora secondo voi paduan dice io sono un tecnico io capisco come funziona l'economia ma secondo voi che siete dei macellai come me o dei contadini come me si aumentano i prezzi di tutto ci fa bene secondo voi posto che i nostri stipendi non hanno l'iva e non aumentano e invece con questi stipendi si deve comprare qualche cos'altro stipendi che per una parte sono da reddito di lavoro dipendente ma per molti di noi sono del lavoro autonomo con partita iva appunto bene secondo voi se gli stipendi sono stabili e aumenta tutto il resto con la benzina aumenta aumentano anche i prezzi dei prodotti che devono essere consegnati con la benzina se aumenta tutto il resto secondo voi per noi non ci cambia nulla i nostri consumi aumenteranno io non sono un tecnico sono un contadino me lo chiedo e lo chiederei anche a paduan che cosa può succedere è evidente che uno può anche aumentare l'iva ma se a me se diminuisce del 50 per cento il nostro tassa sulle nostre sinostri redditi ma se non li diminuisci di tanto e non credo che diminuirà di tanto l'aumento dell'iva vuol dire semplicemente riportare questo paese in recessione yes bel regalo di paduan oggi e mi sembra molto più interessante quello che dice zingales ehm che è un economista liberista che sul sole 24 ore di oggi lancia una provocazione esattamente diametralmente opposta a quella di gialesina di gialesina di alesina e giavazzi oggi sul corriere della sera mentre i due professori scrivono la stessa cosa sul corriere della sera e peraltro alcune cose sono anche condivibili ma quando le scrivi cento volte uno poi si scorcia anche un po' a leggerle e zingales dice signori ma perché non discutiamo dell'euro fuori dalla partigeneria o fuori degli attacchi personali cerchiamo di vedere veramente se l'euro serve o non serve che cosa sarebbero quali potrebbero essere le conseguenze dell'italia se dovesse uscire dall'euro bene insomma mi sembra molto interessante il dibattito che apre ufficialmente zingales grazie a guido gentili al direttore del sole 24 ore secondo me hanno fatto bene direttore e editorialista del giornale a aprire questo dibattito che vedremo soltanto nei prossimi giorni riservato solo gli economisti questo è un peccato ma comunque intenzione la cosa è buona e giusta andiamo avanti sulle notizie di giornata vabbè insomma c'è la farsa del pacifico cioè non è la farsa sono le pagine 2 e 3 di tutti i giornali kim yung nu come cavolo si chiama quel pazzo là con i missili nucleari quanti sono le testate 20 30 e cosa fanno questi ridicoli ragazzi vestiti con mimetica la foto su tutti quanti con questi occhiali scuri tutti quanti uguali dell'esercito invincibile del corea della corea del nord che vi devo dire c'è un milione di persone lì in corea del nord pronte ad attaccare la corea del sud degli stati uniti vedremo come andrà a finire più di questo non so che cosa dire andiamo su altre intervistine tre oggi che vi segnalo tre interviste oltre a quelle di paduan e ragionate le interviste pasqua la prima è a macron che fa mi sembra proprio il sole 24 ore che fa mi sembra che sia il sole 24 ore macron che fa un'intervista macron vi dico la verità il candidato di sinistra ma che viene dalla banca rothschild e qua a parigi se parli del pacron a parte forse qualche salotto buono alla ferrara ma il resto delle persone considera macron esattamente quello establishment che loro vogliono cacciare 10 macron vogliono dire mille le pen ma se noi non lo vogliamo capire perché siamo nelle nostre casette pensiamo che un ex banchiere braccio destro di sarkozy e poi di hollande possa diventare presidente e la soluzione al ai populismi sbagliamo di grosso macron che cosa dice dice una cosa perché più chic di trump ma la stessa identica cosa di trump vorrei che lo comunicassero a tutti quanti i critici di te trump dice beh però l'europa deve rafforzarsi dobbiamo fare un anse franco tedesco asima certo anche l'italia ci sarà dentro ovviamente lo dice il giornale italiano perché la stessa discusa deve essere fatto perché bisogna contestare la cina quando fa dumping cioè quando vende in europa a prezzi molto più bassi rispetto a quello che dovrebbero le loro merci e cosa vuol dire questo dazi se tu vuoi fare una politica anti dumping vuoi mettere dazi vuoi fare chiusure alzare barriere quindi macron dice che vuole alzare barriere fare dazi e fare made in europe lo mette in maniera più sostitutisticata perché viene da rocci viene da una banca non è trump non è un intervista ad antinori un signore molto chic divertente sui 300 anni della storia del suo vino ve la consiglio 175 milioni di euro di fatturato nel vendere vino in giro per il mondo con aziende agricole in giro per il mondo una bella storia italiana vale la pena di leggerla infine intervista a cantone l'uomo per l'anticorruzione che parla del caso consip oggi del caso consip me ne voglio occupare soltanto con l'intervista a cantone ma la cosa che mi stupisce che il giornalista senza vergogna e dice a cantone meglio tornare alle preferenze cioè il giornalista chiede a un signore che è nominato dalla politica come presidente dell'anticorruzione se la legge elettorale è meglio farla con le preferenze o non con le preferenze ma porca miseria ma non non tocville ma basta sartori il compianto sartori ma perché il presidente dell'anticorrenza deve rispondere sul sistema elettorale perché le preferenze portano a corruzione chi se ne frega se così fosse chi l'ha detto e chi lo dimostra io odio le preferenze ma come si può chiedere al presidente dell'anticorruzione se è d'accordo o no sulle preferenze ragazzi ritorniamo un magistrato si occupa di corruzione viene nominato si occupa di tutto i giornalisti ormai gli chiedono che tipo di legge elettorale vuole io penso in che cavolo di mondo viviamo se i magistrati devono dettare anche le regole del gioco certo se la politica neanche discute la legge elettorale beh ci sta che i magistrati invadano il campo di campo dall'orto detto conte mascetti non vorrei occuparmene perché è diventata farsa la sua storia l'ultima cosa di cui vorrei occuparmi e poi c'è una cosa di divertente oggi di del fatto quotidiano che è fissato sempre con report e oggi il problema sarebbe benigni perché benigni aveva aperto una specie di cinecittà in umbria è fallita la ricomprata cinecittà e oggi cinecittà viene venduta allo stato e su questa roba sta indagando report e gli avvocati benigni hanno detto al report di non indagare su questa cosa perché li diffidano ovviamente ci sta montando sul caso il fatto per chi è interessato io non tantissimo né a benigni né a report né voglio dire alla questione di report sul fatto l'ultima cosa che mi fa indignare è lo strage dei civili ieri in siria 100 persone morte e un'ambulanza finta ambulanza mentre i civili venivano fatti evacuare dalle città occupate dall'isis secondo un accordo proprio con i ribelli i famosi ribelli anti assad quelli che noi incensiamo bene hanno fatto arrivare una finta ambulanza verso questi ribelli carica di tritolo proprio esattamente quando i bambini ai bambini stavano distribuendo le patatine quando distribuivano ai bambini le patatine fanno arrivare un'ambulanza i ribelli del anti assad piena di tritolo scoppia l'ambulanza muoiono i bambini muoiono 100 persone civili inermi uccisi apposta non per un errore è stata mandata lì apposta quella bomba bene pagina 15 del corriere pagina 12 di politica estera di repubblica cioè i cazzo di bambini che vengono uccisi da assad di cui non si ha nessuna prova fanno tutti i vip che ho scritto anch'io c'è un bambino i vip dove siete stamattina vi siete svegliate le 5 per questi bambini o i bambini che sono civili protetti di assad a voi non vi piacciono quei bambini non vi piacciono cari vip delle mie delle mie scatole questi non valgono questa la strage di aleppo vale niente con un'autombulanza uccise decine di persone e decine di bambini questi non valgono perché questi non li uccide il cattivo assad peraltro quelle uccisioni del cattivo assad secondo le ricostruzioni anche ultime probabilmente non li ha uccisi assad mentre questi li hanno uccisi sicuramente l'isis oggi in sua repubblica nella quarta ultima riga di un pezzo di repubblica quarta ultima riga si dice che l'isis a musul sta usando gli acidi cioè i gas contro i civili quarta quarta ultima riga di un pezzo di repubblica ma assad assad no stiamo facendo su assad quello che abbiamo fatto su gheddafi è un dittatore come gheddafi sì è sanguinario come gheddafi sì c'è la col occidente come ce l'ha gheddafi con noi sì probabilmente possiamo abbiamo un'alternativa migliore assad no abbiamo queste merde che uccidono i bambini con le ambulanze utilizzano il gas e ci vogliono sterminare preferiamo assad o le merde io preferisco assad preferisco non è un eroe assad è un dittatore sanguinario ma oggi quando mi leggo sui giornali che 100 civili uccisi bambini da un'auto ambulanza vengono relegati a pagina 15 del corriere di tutti quanti i giornali semplicemente perché non fanno notizia come cristiani ammazzati in in egitto non fanno notizia non esistono non esistono io dico va beh insomma l'avete capito bene quello che dico e non voglio continuare perché vi voglio augurare a tutti quanti una buona pasqua dopo questo orrore che è venuto ad aleppo nei confronti di civili in ermi l'unica cosa che mi sento di dire è augurarvi buona pasqua e diffondete questo video come sempre e domani ve ne parlerò perché siamo arrivati a 140.000 follower sulla zuppa di porro non basta sono qualche settimana che stiamo andando lenti quindi condividere cercare persone che mettono like e andare sul mio sito se avete voglia www.nicola porro.it dove ci sono tutte le informazioni raggruppate di quello che faccio e scrivo un abbraccio è il modo per rendermi indipendenti degli editori visto mai ciao